Si chiama Denise Ciamociumbi, ha 34 anni, è di origine peruviana ma da anni è residente a Fossombrone. Laureata in economia aziendale e ricercatrice dell'Università di Urbino, si occuperà di svolgere l'analisi preliminare sull'impatto socio-economico del progetto Pesaro 2030, il grande piano strategico voluto dal sindaco Matteo Ricci per disegnare la Pesaro del futuro, con grande opere e cambiamenti epocali, a partire dall'annosa questione dell'arretramento della ferrovia tra Pesaro e Fano, un'operazione che torna in auge ad ogni campagna elettorale per poi perderne le tracce una volta chiuse le urne. Verrà analizzato il caso di un'opera a fine come quella realizzata a Pescara, inaugurata nel 1988 e rivelatasi determinante per lo sviluppo economico e sociale della città. Sarà compiuta inoltre la Sentiment Analysis, ovvero tramite questionari si indagherà la percezione dei cittadini in relazione a determinate opere o eventi. La dottoressa Ciamociumbi si è giudicata la borsa di studio da 3.000 euro messa a disposizione dall'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Pesaro Urbino, proprio per finanziare l'attività di ricerca e per capire fino in fondo quali sarebbero gli effetti del grande programma Pesaro 2030. Il lavoro di studio sarà supportato dalle professoresse Franca Cesaroni e Federica Palazzi, rispettivamente ordinaria e ricercatrice di economia aziendale del DESP. Secondo il Presidente dell'Ordine dei commercialisti Balestieri, questa borsa di studio è una prima tappa nel percorso che punta a valorizzare ricercatori giovani e merotevoli come la dottoressa Denise Ciamociumbi. Mi occuperò di due tipologie di analisi, la prima riguarderà analizzare gli studi che hanno analizzato precedentemente, l'impatto appunto di questi progetti, che possono essere grandi eventi, che può essere l'arretramento della ferrovia, che molti pensiamo che sia un sogno ma forse in realtà perché no può diventare effettivamente in realtà portando tanti vantaggi alla collettività. Farò un'analisi di due tipi, analizzare gli studi precedenti al fine di far emergere conoscenza in termini di che cosa, di quali sono stati i punti di criticità nel fare questi progetti, cosa c'è da tenere in considerazione, al fine ovviamente di dare sempre più informazioni ai decisori finali. Un altro lavoro sarà quello di analizzare insomma qual è la percezione della comunità e delle varie categorie coinvolte in questi investimenti, che inevitabilmente la comunità stessa, le varie categorie, albergatori, commercianti, istituzioni comunque anche pubbliche, come percepiscono l'implementazione di questi progetti. Entro quando sarà pronto il suo lavoro? Speriamo di lavorare, tempi sono molto brevi, quindi qualche mese sicuramente avremo i risultati.